Mattinata convulsa al Tribunale di Pesaro per un principio di incendio che a partire dalle otto ha visto fuoriuscire fumo dal seminterrato dell'edificio fino a raggiungere il piano superiore. Immediata l'allerta ai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre mezzi, disponendo l'immediato sgombero ed evacuazione del Palazzo di Giustizia e vedendo confluire nel piazzale esterno decine e decine di avvocati, utenti e dipendenti del Tribunale. Un paio d'ore in attesa dell'evolversi della situazione fino a quando il Presidente del Tribunale, su indicazione degli stessi vigili del fuoco, ha disposto il rientro della struttura solo a partire dalle 14, ovvero il tempo necessario ai vigili del fuoco al ripristino dell'agibilità del Palazzo. Alle base dell'incendio ci sarebbe un guasto in via di verifica annessa ad un malfunzionamento del sistema antincendio che avrebbe causato l'attivazione del sistema di spegnimento con conseguente fuoriuscita di fumo. Non ci sono stati né feriti né intossicati. Tutte le udienze previste nella mattinata sono state rinviate a data da destinarsi con comunicazioni affisse all'esterno del Tribunale e poi pubblicate sul sito ufficiale.